E' entrato qualcun altro Chi sei? Chi è che mi sta guardando? Mi stai guardando? Mi stai guardando? Sette omicidi risolti Sette omicidi risolti Sette omicidi risolti Sette omicidi risolti E' venuta una gran voglia di sushi Mo' ho valato la manza Sette omicidi risolti Ma io sono di riposo fino a domani E poi il Duce sta andando a giocare al circolo del tennis Aspetterò che abbia finito di giocare Portatemi al circolo Portatemi al circolo Ma non l'avete ancora capito? Cosa? Quando il Duce va a giocare al circolo del tennis In realtà si chiude in una stanza nel grande hotel Con la signorina Petacci Sapete E' sposato e donna Rachele non è una stupida Quindi capite anche voi che lì proprio Non vi ci posso portare Ma la sera del lunedì 10 agosto Anche in quell'occasione il Duce è niente tennis Mai messo piede al circolo Detto tra noi Il Duce non sa nemmeno come si regge in mano una racchetta Il Duce non sa nemmeno come si regge in mano una racchetta Un poliziotto non ha certezze Non può fidarsi degli informatori Dei colleghi Nemmeno degli amici più stretti Non può fidarsi di nessuno Sono Leonardo Cagliostro Sono un poliziotto E sono morto Qualcuno mi ha ammazzato E se non lo fermo Ucciderà ancora Per questo sono rimasto qui Tra i vivi